Allora, ecco Hop, buongiorno, siamo spena stati dalla veterinario e ha detto che Hop sta benissimo, deve solo recuperare il peso perché è molto sottopeso, ha bisogno di croccantini, di scatolette di carne nutrienti per recuperare il peso, ha fatto delle vitamine, ha fatto lo sverminante, l'antipulci, ha detto che al collo era legata stretta con una corda e a furia di strofinare per liberarsi, che era legata sicuramente a un albero in montagna, strofinando ha perso il pelo e anche sotto il collo, vedete, però ha detto che non ha nessuna malattia contagiosa né dermatite, niente, piano piano mi ha detto assistite, mi ha detto vedrai che recupererà tutto, diventerà bellissimo, crescerà pure il pelo, tra una settimana andremo a fare poi il vaccino e niente, e ora ci vuole solo un pochino di tempo che recuperi il peso perché è proprio scalettrita, poverina, ok? Lei è dolcissima, vorrebbe sempre compagnia, vero Maria? Hop, una bacina, oh piccola, è dolcissima, una zuccherina, ciao a tutti, grazie, e grazie per il vostro contributo, grazie per quello che fate, per noi volontari che aiutiamo questi piccolini, grazie veramente, senza il vostro aiuto non potremmo neanche salvare queste vite, grazie mille.